Recentemente DeGiro ci ha contattati riferendoci di essere diventato un nuovo broker a zero commissioni. Ma lo è davvero, davvero? Vediamo tutto quanto dopo la sigla. Benvenuti amici investitori e benvenuti qui su Viveri e Dividendi. Io sono Nelie, l'consulente finanziario e oggi parliamo un po' di DeGiro. Premessa, a me personalmente DeGiro piace. Lo reputo un ottimo broker per tantissimi aspetti, è molto economico, adatto ai neofiti, è molto semplice come interfaccia. Tuttavia questo non influirà minimamente il video. Proprio perché ho deciso di andare a studiare a fondo prima di parlarne per capire cosa stesse succedendo. Non molto tempo dopo la nostra mail DeGiro ha cominciato a sponsorizzarsi come nuovo broker senza commissioni, nuovo broker a costo zero. E se frequentate da un po' di tempo questo mondo capiamo subito che c'è qualcosa sotto. Un broker, ma in generale una qualunque azienda, non può essere a costo zero. Questo perché offre un servizio e giustamente deve essere remunerato, deve avere delle entrate per essere sostenibile. È proprio il principio base dell'analisi aziendale. Ma allora dove sono questi costi? Diamo un'occhiata. All'interno del documento da rifario è possibile andare a vedere tutti quanti i costi del caso. Prima di tutto vediamo che in realtà ci sono delle commissioni da pagare, come giusto che sia. Quello che vediamo infatti è che DeGiro ha messo solo alcuni prodotti gratuiti, altri prodotti invece no, come obbligazioni, prodotti di leva, future, opzioni. Ma quello che statisticamente interessa alla maggior parte degli investitori sono ovviamente le azioni. Quindi cosa è successo con le azioni? Le azioni italiane avranno una commissione di zero, così come quelle delle borse americane e canadesi. Le altre azioni avranno una commissione di 3,90, mentre quelle australiane di Hong Kong, Giappone e Singapore di 5 euro. Ottimo dato che prima le commissioni in questione erano di 10 euro a transazione. Mi raccomando a questa parte, vi ricordo che precedentemente le azioni italiane costavano per transazione 50 centesimi più 0,50% della transazione. Mentre quelle americane e canadesi costavano 50 centesimi più lo 0,04 centesimi di dollaro per azione. E adesso arriviamo alla parte che non mi è piaciuta. Diamo un'occhiata. Vedere la panoramica dei costi di terze parti a pagina 5. Di cosa stiamo parlando? Andiamo a vedere. Se un ordine viene effettuato tramite una borsa o qualsiasi altra piattaforma di trading, il prezzo totale viene calcolato dalla commissione di transazione di giro più costi di terze parti, costi di compensazione e di liquidazione, commissioni di intermediazione, commissioni per la nota contrattuale, commissioni di regolamentazione e commissioni di esecuzione. De Giro non addebita direttamente i contributi e compensi di terze parti, ma lo fa attraverso una tariffa fissa di 50 centesimi. La commissione fissa copre tutti i costi addebitati dalle borse o dalle piattaforme di trading De Giro per l'esecuzione del tuo ordine. La commissione fissa di 50 centesimi non si applica per il trade grade. Ah, ok, quindi capiamoci. De Giro ci sta dicendo praticamente, sì, voi potete fare le transazioni gratuite, ma noi sosteniamo un costo per farvi fare queste transazioni gratuiti. Stessa cosa per gli ETF, non quelli gratuiti senza commissioni che ha De Giro in portafoglio, per tutti quanti gli altri ETF. Quindi noi abbiamo questi costi da sostenere, ma non ve li addebitiamo volta per volta in base alla vostra transazione, no. Prendiamo in considerazione un forfettario di 50 centesimi che prendiamo per pagare questi costi. Ok, però per capirci, questo significa che io prima pagavo 50 centesimi più lo 0,50% per transazione. Adesso io sto pagando 50 centesimi, che sì, è meno, ma non è gratis. Stessa cosa ovviamente vale sia per le borse americane che quelle canadesi. Intendiamoci, De Giro è e rimane una delle piattaforme, se non la piattaforma più economica per poter investire, comprare e vendere azioni di ETF. E ad oggi diventa ancora più vantaggiosa. Rimanendo nel caso delle azioni italiane, noi in questo caso paghiamo 50 centesimi per transazione, mentre nel caso utilizzassimo un broker italiano pagheremo almeno 4-5 euro. In questa attica abbiamo modesto parere, dato che è già una delle piattaforme con più basse commissioni, non comprendo il voler comunicare a tutti i costi lo 0 commissioni, che sicuramente induce errori se non si è attenti. Praticamente le commissioni sono semplicemente messe sotto il materasso, ma in realtà esistono. E ribadisco, è giusto che sia così. Alla fine un broker deve guadagnare in qualche modo o dalle commissioni o dallo spread. Come detto, questo è il loro lavoro, è giusto che lo facciano. Diciamo che volendo pensare bene possiamo dire che DeGiro ci sta dicendo sì, è vero, ci sono queste commissioni da pagare, ma queste commissioni sono dei costi per noi, quindi non sono un'entrata, non è una vera commissione, semplicemente ve la rigiriamo. E ok, dai. Anche se a me e clienti di fatto non cambia molto. Poi andando ancora più sotto si possono trovare altre informazioni. Prendiamo la pagina 8. Con una commissione per le transazioni in valute estere che passa da 10€ e lo 0,02% a 10€ e lo 0,25%. In questo caso c'è stato anche un aumento delle commissioni. Ma per adesso io mi fermo qui. Ritengo comunque, alla luce di tutto questo, DeGiro un ottimo broker? Assolutamente sì. DeGiro rimane ancora uno dei migliori broker per i neofili. Io vi consiglio anche di guardare, se siete interessati alla ricerca di un broker, andare a guardare questa playlist dove noi abbiamo comparato i vari broker, abbiamo analizzato i vari broker dove andare ad investire. Andate a dare un'occhiata perché merita. E comunque vi ricordo che se volete aprire un conto su DeGiro potete farlo dal link che trovate qui sotto in descrizione. Comunque si tratta sempre di un ottimo broker. Ragazzi per oggi da me è davvero tutto. Io vi ringrazio veramente tanto per aver guardato questo video. Vi ricordo come sempre che potete iscrivervi, attivare la campanella, lasciate un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questa manovra di marketing di DeGiro e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi e buon dividend a tutti.